buonasera allora 17 di 7 non fare un'altra diretta con fabio russo però a patto che fabio russo gli versi 500 euro di bonifico oggi è pasquetta o almeno quando vedete questo video non lo so se lo vedete domani è stata pasquetta quindi le banche sono chiuse e di tutta risposta vedendo le storie che ha retweetato le storie di 17 di 7 per fare contenti le tigri fabio russo accettato ora vedremo la diretta quando si farà ma penso in questa settimana a voi firmato mi è arrivata voce che vuoi fare la diretta io la diretta l'altro giorno te l'ho fatta e mi hai fatto segnalare l'avrei fatta apposta allora facciamo così mi mandi 500 euro lo dico davanti a tutti mi mandi 500 euro mi fa il bonifico istantaneo istantaneo se domani mi arrivano perché oggi è chiuso le banche sono facciamo la diretta sul tuo profilo quindi ragazzi andate tutti quanti a dire a fabio russo mandagli 500 euro 17 27 e fate la diretta così non ci sarà un problema